Se amate un po' il piccante non perdetevi questa ricetta! La confettura di peperoncini riesce a regalare una nota magica a tante pietanze e sono sicura che una volta provata non mancherà più tra i vostri antipasti soprattutto se avete ospiti e volete fare bella figura. Questa ricetta non solo è molto facile ma va incontro ai gusti un po' di tutti perché potete scegliere voi quanto debba essere piccante la vostra marmellata. Per i miei gusti io ho raggiunto un equilibrio perfetto utilizzando 700 g di peperoni rossi, 300 g di peperoncini piccanti, 400 g di zucchero, 50 g di aceto di vino bianco e un pizzico di sale. Innanzitutto lavo bene gli ortaggi in modo da togliere ogni residuo di terra. Li asciugo con un panno e poi vado a pulirli. Per quanto riguarda i peperoni tolgo il picciolo, li taglio in due in modo da poter eliminare anche i filamenti bianchi e i semi. Li taglio infine a pezzetti. Per i peperoncini, attenzione, bisogna usare dei guanti per proteggere le mani. E facciamo un po' la stessa cosa. Quindi andiamo a togliere il picciolo, li apriamo a metà nel senso della lunghezza per togliere tutti i semini e li facciamo a pezzettini. Adesso riuniamo tutto in una pentola capiente. Aggiungiamo lo zucchero, due prese di sale e l'aceto. Andiamo sul fuoco, mettiamo il coperchio e aspettiamo che lo zucchero si sciolga, che si formino anche un po' di liquidi di vegetazione. E da questo momento possiamo un po' abbassare la fiamma, lasciare il coperchio socchiuso e continuare la cottura per circa un'ora. O comunque fino a quando i peperoni e i peperoncini non saranno diventati abbastanza morbidi. Fase 2 spegniamo per un momento e andiamo a frullare tutto con un mini peamer. Lavoriamo quindi per qualche minuto per ottenere una purea perfettamente liscia. E adesso, l'ultimo passaggio, proseguiamo con la seconda cottura, quella che ci regalerà la consistenza preferita. Adesso dobbiamo ricordarci di mescolare un po' più spesso, per evitare che la confettura si attacchi sul fondo della pentola. La cottura questa volta durerà all'incirca 30 o 40 minuti. Per capire se la consistenza è quella perfetta, possiamo fare la prova a piattino. Lasciamo cadere qualche goccio di marmellata su un piatto, lo teniamo in verticale per lasciare colare la goccia. Se non scorre via facilmente, ma resta abbastanza compatta, allora possiamo spegnere. Il nostro lavoro è terminato, a questo punto dovremo già avere i vasetti ben sterilizzati, muniti di tappi nuovi. Andiamo a riempire quindi i nostri vasetti, fermandoci ad un centimetro dall'orlo, con la marmellata ancora ben calda. Avvitiamo i tappi e capovolgiamo i vasetti. In questo modo il calore ci aiuterà a formare il sottovuoto correttamente. Lasciamo raffreddare così, poi mettiamo in dispensa, lasciamo riposare almeno una settimana e dopo questa attesa possiamo finalmente gustare la nostra confettura di peperoncini. Mi raccomando, provatele insieme ad un tagliere di salumi e formaggi stagionati. Sono sicura che vi piacerà, però fatemelo sapere nei commenti. Io vi aspetto anche sui nostri siti cibodoc.it, vivomangiando.it con tante altre ricette.